Questo è il circuito internazionale Friuli-Venezia-Giulia di Lignano-Sabbiadoro e questa è la storia di un ragazzino di 11 anni, Ruan Alva, un piccolo indiano di Bangalore. Ruan Alva fa parte dell'Accademia dei Giovani Piloti creata a Bangalore da Marco Bartoli che è l'importatore ufficiale in India dei famosi go-kart della B-Relati. In questa edizione del campionato internazionale che si è tenuta questa volta a Lignano-Sabbiadoro, Ruan Alva si è classificato al quarto posto sotto una pioggia torrenziale. Direte ma che razza di risultato è questo? Ruan Alva ha cominciato a venire in Italia dal febbraio scorso. Ogni mese si è sobbarcato il lungo viaggio da Bangalore India all'Italia in uno dei circuiti internazionali di go-kart di cui l'Italia va famosa. A corso rispetto agli altri concorrenti italiani una gara di meno e ora si è affermato al secondo posto nel campionato italiano di go-kart. Un campionato molto acceso organizzato dalla B-Rel Art che è il massimo fornitore di go-kart a livello nazionale e internazionale. e qui abbiamo il place numero 4, ora mi chiede l'Indiano, Ruan Alva! Alan Kowalski, terzo, scusate per questo intervento il live è giusto, ok, terzo place Alan Kowalski seconda posizione, Marco Buttini e ora, il vennero sul passato il britain Christian Lilley grazie 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 Grazie.